ciao amici sapete che esiste un cibo fantastico per la prostata è un alimento che abbiamo tutti in casa e sono sicura che molti di voi lo mangiano già quasi ogni giorno davvero è la salsa di pomodoro ed è dimostrato dalla scienza pare riduca il rischio di tumore alla prostata e prevenga l'infiammazione prostatica se vi piace la notizia mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video perché la salsa di pomodoro fa bene alla prostata tutto merito del licopene un carotenoide contenuto nel pomodoro che dà il tipico colore rosso gli effetti benefici del licopene per la prostata sono noti da tempo grazie a uno studio di harvard condotto dal dottor eduard giovannucci e pubblicato sul journal of the national cancer institute in usa basandosi su queste ricerche un'equipe di medici coordinata dal dipartimento di human nutrition di chicago ha scoperto che la salsa di pomodoro agisce come un vero e proprio integratore per la prevenzione del rischio di tumore alla prostata il licopene rispetto ad altri carotenoidi riduce l'infiammazione della prostata in modo specifico e non solo riduce anche i valori del psa come ha dimostrato lo studio secondo la ricerca si può ridurre il rischio di cancro alla prostata anche del 35 40 per cento da oggi a mio marito pasta al pomodoro tutti i giorni non serve esagerare secondo la ricerca basta consumare salsa di pomodoro da due a quattro volte a settimana per avere i benefici io ovviamente raccomando di usare pomodori bio così non si assumono pesticidi e sostanze chimiche e poi meglio fare i sughi in casa o comprare gli ingredienti base bio piuttosto dei sughi pronti che contengono altre sostanze come sale aggiunto insaporitori industriali e hanno gravi conseguenze sulla salute non solo della prostata sul mio canale trovate tanti altri video sulla prostata il benessere maschile per vederli tutti iscrivetevi è facile basta un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto ricordate sempre amici alimentazione sana uguale prostata sana